...perta da Bin, l'igienizzante naturale per tutto il corpo. ...perta da Bin, l'igienizzante naturale per tutto il corpo. ...perta da Bin, l'igienizzante naturale per tutto il corpo. Tutti noi facciamo fin da subito gli esami del sangue e tutti noi abbiamo poi difficoltà a leggere. Questa sera noi leggiamo i nostri risultati. Questa sera abbiamo in studio dei grandi esperti, ma è anche l'occasione di parlare, ed è un po' impegnativo, parlare di malattie molto serie, talvolta drammatiche, o anche di malattie comuni ai più. E vi dicevo appunto abbiamo dei grandi esperti, quindi ci sarà l'occasione per conoscere meglio questo componente essenziale della nostra salute, che è il sangue, e scoprire come, a fronte anche di patologie impegnative, drammatiche talvolta, che riguardano anche i bambini purtroppo, mi riferisco alle leucemie, però ci sono anche delle ragionevoli speranze che in futuro si possano risolvere tanti problemi e limitare tanta sofferenza. E allora, vi presento subito gli ospiti, perché avremo anche tante cose, ma soprattutto tante belle immagini da mostrarvi per presentare questo servizio nuovo, questo reparto lanciatissimo di ematologia, che conta veramente delle persone, dei professionisti molto ben preparati. Do il benvenuto dunque al professor Francesco Lanza, che è qui con noi. Buonasera, viene da Ferrara e adesso dirige, è direttore di ematologia e centro tra pianti di midollo osseo dell'ospedale di Cremona appunto. E con lui ci sono due preziosi collaboratori, due dirigenti medici della stessa unità di ematologia e sono il dottore Pierangelo Spedini, che ringrazio per essere qui, e la dottoressa Monica Tajana. Buonasera, grazie anche a lei. Ricordo al nostro pubblico che siamo rigorosamente in diretta, questo significa per voi la possibilità nell'ultima parte della trasmissione di accedere ai nostri ospiti, quindi di porre le vostre domande e se volete anche di parlarci dei vostri casi particolari, i vostri casi personali. Il numero verde a vostra disposizione è sicuramente già in sovrimpressione o lo sarà tra qualche istante. Bene, dicevamo che parleremo di malattie del sangue, i tumori del sangue, ma anche di malattie più comuni. Quindi io girerei subito il compito abbastanza impegnativo di presentarci l'argomento proprio al professor Lanza, che come vi dicevo è una persona molto esperta e infatti non solo è il responsabile, il direttore del reparto di ematologia e centro tra pianti di midollo osseo di Cremona, ma vanta anche una lunga esperienza proprio per la sua, diciamo, militanza in questo prestigioso centro di Ferrara da cui lui proviene, anche la sua città natale Ferrara. Dunque, professore, è uno dei massimi referenti anche in ambito europeo? Beh, diciamo che oggi parleremo finalmente di malattie del sangue, parleremo delle cellule del sangue, che sono delle cellule, come diceva lei, molto importanti perché hanno delle funzioni fondamentali per l'organismo. Quindi noi viviamo grazie a queste cellule del sangue. Queste cellule del sangue possono andare incontro a delle deviazioni patologiche della normalità e portare delle malattie che possono essere più o meno gravi, alcune di origine non tumorale, altre di origine neoplastica. Oggi c'è molto interesse per le malattie oncologiche, ma cercheremo anche di parlare di quelle che sono le malattie più banali, che colpiscono le cellule del sangue, che sono molto comuni, che vanno diagnosticate, in cui l'ematologo, il clinico ematologo, può fornire un contributo importante per la definizione diagnostica di queste malattie. Certo. Leggevo anche che lei è presidente della società italiana di citometria. Sì. Ecco, citometria. Beh, citometro vuol dire misurare le cellule. Quindi, diciamo, noi ematologi siamo nati guardando le cellule al microscopio. Forse l'ematologo è stato il primo, ci chiamavamo, ci siamo sempre stati chiamati un po' il clinico con le mani sporche, perché rispetto alle altre discipline mediche che hanno meno a che fare con il laboratorio, che perlomeno appaltano le analisi di laboratorio al laboratorista o da altre strutture esterne, l'ematologo ha sempre studiato le cellule del sangue direttamente, facendo delle valutazioni, prendendo le provette, analizzando, mettendo delle sostanze chimiche, valutando queste reazioni nelle cellule del sangue, quindi è sempre stata abituata a studiare e a guardare le cellule del sangue. Il primo contributo, quindi, è studiare le cellule del sangue morfologicamente, guardandole al microscopio. Però queste sono state un po' le analisi che hanno preceduto tutte le indagini più recenti, che oggi giorno si arriva a delle indagini molto più sofisticate. E praticamente il sangue non ha più segreti per voi? Beh, diciamo, magari, diciamo che più si studia, più si capisce la complessità del problema. Questi erano dei filosofi che lo dicevano per cose che non avevano attinenza con l'ematologia, ma questo è tanto vero per l'ematologia. Quanto più andiamo a livello genetico, a livello di studio del DNA, quanto troviamo che le varie malattie delle cellule del sangue sono complesse. Se studiamo queste cellule del sangue... Meglio essere umili che troppo baldanzosi, perché certamente la medicina fa progressi in continuo, ma è chiaro che ci sono ancora molte cose da conoscere di questa realtà meravigliosa e complessa che è appunto il corpo umano e il suo funzionamento. Ecco dunque che questa sera noi presentiamo bene il vostro reparto e attraverso il vostro reparto ci allarghiamo ad un pubblico anche più vasto, proprio prendendo l'occasione per parlare appunto delle patologie del sangue. Io dicevo all'inizio, quasi tutti noi facciamo spesso, no? C'è l'abitudine di fare l'esame del sangue, poi non riusciamo a leggere perché non abbiamo noi gli strumenti. Certo ci limitiamo a guardare i parametri, a vedere se siamo nella norma o se invece c'è l'asterisco, vuol dire che qualcosa non va. Tuttavia è proprio così, il sangue ci dà tantissime informazioni sul nostro stato di salute. Sicuramente il sangue possiamo dire che è lo specchio dello stato di salute di una persona, quindi ci dà tutta una serie di informazioni. E' chiaro che nel sangue ci sono mille sostanze chimiche, noi in realtà studiamo principalmente le cellule del sangue perché la biochimica del sangue è un pochino al di fuori di quelli che sono i nostri stretti attinenze di studio. Per quanto riguarda le cellule del sangue, quindi noi facciamo in primis l'esame emocromo citometrico, quindi studiamo i numeri e quantitativamente quanti i cellule del sangue abbiamo se queste sono alterate qualitativamente. Vedete in questa... Ecco, siamo già entrati proprio nel vivo della trasmissione con un po' di spiegazioni. Sì. Beh, diciamo intanto quali sono le principali cellule del sangue. Sono i globuli rossi, che sono quelli che colorano il sangue, e sono dei corpuscoli, li vedete nella diapositiva in alto a sinistra, colorati in rosa. Questo è un preparato, uno striscio di sangue periferico. Sono grossomodo circolari e sono piuttosto ripieni. Però se valutiamo con un microscopio elettronico, con un microscopio un pochino più sofisticato di quell'ottico normale, vedete che hanno una forma a disco biconcavo, diciamo noi, praticamente sono un pochino schiacciati nella parte centrale. E quindi i globuli rossi hanno questa funzione di veicolare l'ossigeno grazie a questa molecola che è l'emoglobina. L'emoglobina. L'emoglobina quando cala, cosa succede? Dà tipicamente l'anemia. Un'anemia può essere più o meno grave e può essere dovuta a tantissime malattie. Tipica l'anemia delle ragazze giovani o anche meno giovani, però delle donne in età fertile che hanno chiaramente mestruazione e possono avere con il ciclo delle perdite copiose di sangue. Queste perdite chiaramente producono un'anemia. E questa anemia può dare tutta una serie di sintomi che sono sentirsi stanchi, avere sensazioni di freddo in ambienti anche ben riscaldati, perdita di capelli, alterazioni ungueali, sintomi da fatica, quindi chiaramente difficoltà a fare le scale. E poi un classico è proprio il pallore, direi. È naturalmente il pallore. Il pallore che poi noi guardiamo a livello dei tegumenti è questo pallore che è caratteristico e chiaramente nelle donne può essere mascherato dal trucco, però negli uomini chiaramente in genere più visibili e quindi ecco perché noi andiamo a ricercare il pallore a livello delle mucose dell'occhio. Dell'occhio. Comunque non c'è da impressionarsi ma nemmeno da scherzare troppo perché in realtà la scarsità di ossigeno che viene veicolato in caso di anemia può comportare anche un affaticamento di organi importanti e quindi... Certo, in primis il cuore perché il cuore ha necessità di ossigeno. Sappiamo che l'infarto miocardico è dovuto a una ipossigenazione, c'è una mancanza di ossigeno nel cuore, generalmente per una ristrettezza di una delle arterie del cuore, ma può essere dovuto anche proprio a una carenza di emoglobine e quando questo è molto importante noi sappiamo che chi soffre di cuore accentua i disturbi cardiaci in corso di anemia. Ecco perché quando uno è molto anemico si fanno delle trasfusioni oppure oggigiorno ci sono delle terapie molto più innovative come l'ormone l'eritropoietina che è l'ormone specifico che noi produciamo a livello del rene e che dà lo stimolo a produrre i globuli rossi e questo stimolo è fondamentale per produrre il numero di globuli rossi che noi necessitiamo in quella fase. Quindi stiamo già parlando di terapie, di nuove terapie perché sa, professore, la cosa più comune che capita a noi comuni mortali quando ci troviamo di fronte all'anemia il nostro medico di base c'è la carenza di ferro e quindi fiale di ferro o si chiude anche peggio iniezioni di ferro. Che cosa c'è di fondato di vero in questa consuetudine? Noi diciamo sempre che è fondamentale avere un buon approccio clinico al paziente guardarlo in faccia, prima cosa la seconda visitarlo accuratamente la terza quella di fare degli esami ematologici specifici approfonditi quindi quando c'è un dubbio al medico di base, in dubbio diagnostico rivolgersi a un clinico ematologo di fiducia e affidare la competenza del caso all'ematologo che sicuramente può fare tutti gli approfondimenti del caso per capire se l'anemia è un'anemia banale da carenza di ferro oppure cova sotto sotto qualcos'altro di più grave dietro ci potrebbe essere anche un'altra patologia quindi sempre approfondire ma quando è che ci dobbiamo impressionare se vogliamo guardare un po' i numeri? Beh diciamo che i numeri di per sé sono importanti ma mai troppo importanti cioè il numero va sempre inquadrato poi io dico sempre guardiamo i numeri guardiamo i valori di normalità ma guardiamo ancora di più il paziente e la storia del paziente quindi bisogna vedere quali sono i suoi valori di normalità perché l'asterisco, le stelline come dicono i pazienti che preoccupano tutti vanno guardati ma vanno comparati con i dati precedenti ci sono persone che hanno un pochino meno piestrine o che hanno un pochino meno globuli rossi perché magari possono avere delle piccole alterazioni già dalla nascita anche come diciamo quella che può essere l'anemia mediterranea ma c'è un'anemia di cui anche parleremo la talassemia esatto le talassemie che ci sono nelle forme eterozigote cioè le forme minor le forme più banali che in realtà non sono accompagnate a patologie però danno questi globuli rossi piccolini danno una modesta anemia però ci sono dei microcitemici cioè dei soggetti che hanno l'anemia mediterranea questa beta talassemia che hanno magari 13 di emoglobina e si identificano perché i globuli rossi sono più piccoli e hanno un numero di globuli rossi più elevato che serve per compensare questo stato di anemia e altri invece che hanno un'anemia più importante quindi bisogna sempre fare un'indagine longitudinale vedere nel tempo come la persona anemica si comporta nell'arco degli anni quindi non mai farsi prendere dall'ansa certo quindi in questo caso la persona sarà seguita, monitorata va seguita, monitorata e chiediamo sempre gli esami precedenti venire sempre dal medico corredati di esami precedenti ematici che possono in qualche modo aiutare l'ematologo ad avere le giuste informazioni ad avere un riferimento che diventa importante certo molto bene proseguiamo con le nostre tabelle professore abbiamo sfumato un po' le immagini del vostro reparto di ematologia che erano anche immagini molto gradevoli di ambienti belli mi pare anche rinnovati io devo dire che sono qui da pochi mesi ho trovato uno staff estremamente preparato che lavora secondo le linee guida diciamo che ho trovato un ambiente quindi una struttura alberghiera chiamiamola così molto all'avanguardia sono tutte camere singole corredate quasi tutte di filtri dopo ne parlerà la dottoressa Tajana delle possibilità di utilizzare queste sacche per trapianto ma quello che è importante è che le sale sono tutte a basso contenuto microbico quindi le possibilità di avere delle delle infezioni ospedaliere sono estremamente limitate ed è per voi importantissimo perché poi andremo a vedere che quando si fanno determinati determinati operazioni diventa basilare non avere in circolo appunto batteri e questo anche per chi fa chemioterapie perché chi fa le chemioterapie purtroppo i globuli bianchi si abbassano per effetto delle chemioterapie e quindi il soggetto diventa più suscettibile a infezioni e per cui sicuramente ha necessità di rimanere in un ambiente che abbia un basso contenuto microbico Bene, dunque lei ha trovato un ambiente sufficientemente confortevole e pronto per poter portare avanti il lavoro di cui lei sarà promettore Facciamo vedere qui delle ciclette vedete qua queste ciclette non sono le mettiamo lì proprio apposta per incentivare l'attività fisica dei genti dei vostri pazienti esatto, quelli che naturalmente se lo possono permettere che non hanno delle lesioni osse importanti ma quelli che fanno anche chemioterapia noi li stimoliamo a fare una blanda attività fisica che sicuramente aiuta sia per passare le ore della giornata ma anche per mantenere un metabolismo più fisiologico durante i periodi di ricovero Quanti posti letto avete? Quanti legenti potete... Allora, il problema dei posti letto è un problema, speriamo, in divenire noi attualmente abbiamo circa 8-9 posti letto attivati oltre quelli in dei hospital che quindi dei pazienti che affluiscono al reparto giornalmente poi vengono dimessi in giornata e poi abbiamo un'attività ambulatoriale per i posti di degenza e sono circa 9 però abbiamo fatto una richiesta di aumentare la degenza i numeri di leggenti proprio perché l'attività che noi facciamo credo necessiti di qualche posto letto in più Quindi bisogna incrementare i posti letto? Sì Si può Del resto penso che il vostro direttore generale professor Spaggiari punti molto anche su questa nuova ematologia per cui la ritieni sarà il fiore all'occhiello quindi penso che sarà un investimento giusto anche quello sui posti letto Ecco dunque possiamo proseguire abbiamo già appunto toccato pazienti diciamo così più particolari più sensibili pazienti sottoposti a terapie a chemioterapie pazienti che dunque hanno forme tumorali del sangue perché siamo partiti in maniera soft professore siamo partiti con le anemie con le talassemie che sono poi anche patologie quotidiane che sicuramente incontrate anche infezioni del sangue ricordiamoci possono sembrare banali ma non lo sono affatto anzi ma quello che sicuramente ci ricollega a voi subito con con l'immagine con il pensiero è il fatto che voi trattiate pazienti ad esempio con le ocemie pazienti che hanno casi molto problematici e quindi sono ancora oggi patologie che spaventano molto quelle del sangue soprattutto i tumori del sangue e soprattutto spaventano perché le leucemie sono anche patologie spesso legate ai bambini sono il tumore infantile per eccellenza circa un quarto della popolazione infantile che soffre di tumore ha questa patologia però è anche una patologia che ha un indice ha un risultato di guarigione piuttosto elevato una sopravvivenza che se non sbaglio raggiunge talvolta anche l'80% per cui ecco una ragionevole speranza per tutti i portatori di queste malattie per i loro familiari soprattutto per i bambini che devono affrontare delle sofferenze notevoli ecco sì sì prego c'è da dire che la leucemia acuta linfoblastica del bambino è proprio caratteristica e ha questa possibilità di guarigione che purtroppo non si è riusciti a trasportare nell'adulto con la stessa successo per cui tanti studi sono stati fatti per fare lo stesso tipo di trattamento però i risultati ad oggi non sono uguali per quanto riguarda l'adulto purtroppo gli adulti cioè si ammalano magari più tardi si ammalano di meno la leucemia penso che sia nelle varie forme perché noi parliamo in generale di leucemia ma mi pare che ci siano più forme di leucemia diverse tra di loro e anche per aggressività anche per progressione soprattutto penso sia importante fare un distinguo fra forme acute e forme croniche sì sì a te il dottor Spedini dopo parlerà di una leucemia cronica che rappresenta diciamo la leucemia più frequente nel mondo occidentale soprattutto nell'anziano la leucemia acuta diciamo che si può distinguere in due grandi gruppi che è quello delle leucemia acute linfoblastiche e mieloidi cioè che coinvolgono un tipo di globulo bianco che è diverso come funzione e come natura nei due gruppi e ha delle manifestazioni cliniche diverse e una prognosi comunque che è diversa ma in ognuno dei due gruppi per quanto tu metta l'etichetta di leucemia acuta con lo stesso nome ci sono poi adesso dei fattori prognostici che sono molto come si può dire più simili quanto non fossero una volta solo il fatto di guardare le cellule al microscopio perché ci sono delle alterazioni cromosomiche certo quindi le vostre diagnosi oggi sono molto più precise molto più particolareggiate e quindi questo cambia anche un pochino la storia della malattia la storia della terapia per cui ci saranno terapie più personalizzate diciamo che le nostre diagnosi adesso hanno una maggiore valenza prognostica e quindi permettono diciamo di fare una terapia più orientata proprio sul singolo caso sul singolo paziente per cui magari c'è il paziente che dall'inizio deve essere avviato al trapianto di midollo da donatore e quello che per certo invece guarirà solo con la chimioterapia quindi è una strada completamente diversa chiaramente molto giusto vogliamo quindi fare un po' di storia di questa malattia nel senso chi me ne parla me ne parla lei dottor Sperini io direi che dobbiamo porre l'accento su due aspetti il primo che lei ha già giustamente sottolineato è quello che distingue il capitolo delle leucemie acute verso le leucemie croniche questo per dire che ci sono proprio due pur essendo sotto la stessa etichetta di leucemia nel senso etimologico della parola cellule bianche in numero aumentato nel sangue ma che hanno una prognosi completamente differente e io vorrei puntualizzare e cominciare a dirvi una parola sulla leucemia linfatica cronica che è sicuramente la leucemia che colpisce più diffusamente le persone nei paesi occidentali rappresenta l'11% circa delle patologie ematologiche maligne dell'adulto e circa l'incidenza è attorno a 20% per 100.000 abitanti hanno alle nostre latitudini direi che è una malattia che colpisce preferenzialmente il sesso maschile con un rapporto maschio-femmina 2 a 1 peraltro la maggior parte delle emopatie maligne ha un'incidenza maggiore nel sesso maschile e in questa particolare forma di leucemia si può sottolineare un ruolo della familiarità con questo sottolineo bene che non è una malattia assolutamente ereditaria però nell'ambito delle varie leucemie in questa patologia si può in taluni casi anche proprio ricostruire un albero come dire genealogico nel senso che certe famiglie sono più colpite di altre direi che questa malattia ci può porre di fronte a un paziente che nella stragrande maggioranza dei casi arriva all'osservazione medica per caso perché o per motivi lavorativi o per controllo o perché un paziente particolarmente immagino che dia dei sintomi dei segnali molto molto velati nella maggior parte dei casi direi 80% dei casi il paziente arriva all'osservazione medica perché ha fatto un emocromo cioè un esame del sangue che classicamente fa vedere un aumento mostra un innalzamento dei globuli bianchi in termini assoluti ma la cosa importante è che quando parliamo di globuli bianchi parliamo di un insieme di cellule che sono poi distinguibili in sottoclassi e nell'ambito dell'ucemia come dice il nome linfatica cronica la quota di globuli bianchi aumentata è rappresentata dai linfociti quindi noi ci troviamo di fronte a pazienti quindi sono le cellule del nostro sistema immunitario che vengono prodotte anche queste nella stessa sede dove vengono prodotte a livello midollare esattamente nel midollo emopoietico che è il midollo contenuto all'interno delle nostre delle ossa e sono cellule proprio nel caso dell'infatica cronica che sono cellule simili uguali ai linfociti del sangue periferico sono piccoli linfociti del sangue periferico aumentati dicendo che l'80% circa dei pazienti sono asintomatici è altrettanto ovvio che il 20% dei pazienti possono arrivare all'osservazione medica perché? perché per esempio hanno dei linfonodi ingranditi quindi il primo riscontro può essere una ghiandola superficiale a livello del collo quindi latero cervicale a livello sovraclaveare a livello ascellare a livello inquinale ingrossata aumentata di volume ci sono diciamo queste sono le due forme più frequenti qui vediamo nella diapositiva un paziente che ha voluminose adenopatie latero cervicali sia a destra che a sinistra quindi ad entrambi i lati del collo e nel diapositive successive si vedono dei linfonodi estremamente aumentati di volume a livello ascellare fortunatamente questi sono casi eclatanti la maggior parte dei pazienti non ha adenopatie di dimensioni così spiccate però il riscontro di adenopatie può essere a livello di tutte le stazioni linfonodali superficiali questo è un caso abbastanza frequente di presentazione ci sono poi dei casi di presentazione più rari in particolare direi il paziente può giungere ecco ma perché si ingrossano i linfonodi perché c'è una proliferazione perché lì in quelle sedi c'è una proliferazione diciamo così maligne che sono degenerate esattamente crescono proliferano è una malattia che potremmo definire d'accumulo linfocitario crescono in maniera lenta ma progressiva e questo porta a un ingrandimento degli linfonodi anche del fegato e della milza eventualmente nella diapositiva successiva si vede un'altra forma di presentazione paziente può giungere l'osservazione medica questo è un caso di arpezooster metamerico a distribuzione metamerica toracica perché questi linfociti sono immunoincompetenti cioè non sono capaci di fare la funzione che normalmente hanno per cui il paziente è più suscettibile ad andare incontro a infezioni che possono essere di qualsiasi natura batterica in questo caso chiaramente virale ma anche fungina per esempio pazienti che hanno infezioni recidivanti a livello per esempio polmonare da gram negativi possono essere pazienti che hanno una leucemia linfatica cronica per esempio quindi la patologia diciamo primaria quella che consente che poi si anidino anche queste successive patologie queste infezioni o virus come abbiamo visto è perché non si è scoperta la causa iniziale è proprio perché c'era sì può essere ecco una forma di presentazione in questo senso può essere questo fatto è ovvio che non deve essere equivocato che non è che tutte le persone che hanno non è che tutti i pazienti che hanno questa è una esattamente allora perché ho il sistema immunitario che non funziona perché ho un tumore del sangue esattamente però questa può essere una forma di presentazione da sottolineare stiamo parlando ricordo stiamo parlando di persone nella stragrande maggioranza dei casi questa è una patologia che interessa pazienti della sesta settima decada di vita è vero che oggi l'incidenza sono interessate anche persone più giovani però nella maggior parte dei casi sono pazienti che hanno 60-70 anni ci sono forme direi più rare di presentazione fortunatamente perché si può avere una presentazione abbiamo parlato di anemia con un'anemia emolitica cioè con una distruzione dei globuli rossi o delle piastrine prevalentemente direi dei globuli rossi dovuta all'attacco di anticorpi ai globuli rossi che vengono quindi distrutti quindi il paziente può arrivare all'osservazione medica perché ha sviluppato questa stanchezza siccome l'anemia emolitica è una cosa che è un'anemia che si sviluppa velocemente l'organismo non ha il tempo di mettere in atto i meccanismi di compenso che normalmente si possono osservare quando l'anemia si sviluppi in modo lento e cronico sì che il paziente giunge all'osservazione medica perché sviluppa stanchissimo una stanchezza non riesce più a fare le sue attività quotidiane non sta più in piedi concettualmente per cui una forma di presentazione diciamo non frequente però può essere anche questa l'anemia emolitica e sotto alla base di questa l'anemia emolitica c'è la leucemia linfatica cronica purtroppo c'è questa forma di leucemia che ripetiamo è di solito caratteristica di una fascia di età piuttosto avanzata più uomini che donne più uomini che donne nella stragrande maggioranza dei casi un fulmine a ciel sereno diciamo così riscontro occasionale esame del sangue globuli bianchi aumentati linfociti aumentati osservazione in ematologia e amara sorpresa noi ci fermiamo qui per la prima pausa pubblicitaria poi ovviamente proseguiamo col discorso perché abbiamo capito che ci possono essere malattie molto serie molto preoccupanti adesso vediamo però anche come si può correre come si può rimediare bene riprendiamo il nostro discorso e vi ricordo che questa sera noi parliamo di ematologia in collaborazione con gli istituti ospitalieri di Cremona il nostro ospedale ci presenta un reparto che si è rinnovato non solo nella dirigenza infatti abbiamo il piacere di ospitare il professor Francesco Lanza che è il direttore ma anche attraverso i suoi collaboratori scopriamo che tipo di servizio se vogliamo anche abbiamo usato prima un aggettivo umano e competente questo insieme viene offerto appunto da questo nostro ospedale di Cremona e allora io direi di restituire la parola al dottor Spedini perché ci stava parlando di una particolare forma di leucemia mi completi? sì la leucemia linfatica cronica linfatica cronica che come si diceva prima interessa preferibilmente una fascia di popolazione avanti con gli anni che si presenta con dei sintomi dei segnali che possono essere molto sfumati e quindi non è infrequente che una persona lo scopra casualmente e che va indagata meglio comunque anche se non altro per capire come procedere perché la parola cronica ci fa pensare che abbia un'evoluzione lenta è corretto è corretto però dobbiamo considerare facciamo una puntualizzazione diciamo che il paziente è arrivato in ospedale abbiamo visto l'emocromo come approcciamo questo paziente sostanzialmente vorrei farlo vedere nelle diapositive un esame molto semplice direi quasi scusate la parola banale è uno striscio di sangue periferico lo striscio di sangue periferico letto al microscopio che ci permette di valutare che significa sangue periferico sangue periferico sostanzialmente pungiamo il dito di un paziente come quando si fa la glicemia allo stiglicemico dal dito una cosa di questo tipo quindi pungiamo il dito del paziente una goccina di sangue la strisciamo su un vetrino e dopo opportuna colorazione la guardiamo la leggiamo al microscopio è quella che vediamo prima dicevo la vediamo che in questa leucemia linfatica cronica c'è un aumento sproporzionato dei linfociti se guardate questo è uno striscio a piccolo ingrandimento si vede che lo striscio su uno sfondo di globuli rossi che sono quelli che prima aveva descritto il professor Lanza ci sono queste cellule linfatiche che sono sparse in maniera aumentata in modo se noi avessimo qui la strisciata di un sangue di una persona sana avremmo una prevalenza di rosso abbiamo una prevalenza di globuli rossi come qui però nell'ambito dei globuli bianchi abbiamo delle sottopopolazioni di globuli bianchi e i globuli bianchi che predominano sono i granulociti neutrofili qui quasi in questo striscio non ce ne sono e predominano solo esclusivamente linfociti ci sono solo linfociti e ci sono anche delle cellule linfoidi che si rompono durante lo striscio che si chiamano ombre di Gumprecht spesso oggi il laboratorista commenta sull'emocromo lo scrive l'analisi dello striscio ha messo in evidenza ombre di Gumprecht per cui il paziente può accedere al nostro ambulatorio con una nota nell'emocromo sulla quale è scritto questo ombre di Gumprecht nello striscio di sangue periferico che già per voi è un campanello d'allarme è già un segnale che probabilmente è la conferma esatto quindi immagino che il ecco questo che vediamo adesso è un ulteriore ingrandimento vediamo dei piccoli linfociti in alto sul striscio di sinistra vedete proprio l'infocito rotto che è un'ombra di Gumprecht là in alto a sinistra e tutte e due i linfociti fanno venire in maniera inequivocabile insomma che c'è una proporzione aumentata ecco di linfociti ecco ma questi linfociti che hanno tutti una forma diversa siccome prima il professore appunto ci diceva che la vostra osservazione si basa molto anche proprio sulla forma di queste cellule questi linfociti allo striscio che abbiamo visto sono più o meno omogenei sono cellule piccole con un rapporto tra il nucleo e il citoplasma alto ma sono abbastanza tipici lo striscio non ci dice poi molto di più ho capito quindi nell'analisi successiva lo abbiamo punto vediamo approfondiamo e facciamo l'esame del midollo sostanzialmente facciamo due tipi di esame che sono l'esame dell'aspirato del midollo quindi aspiriamo il midollo emopoietico e facciamo quella che vediamo qui anche la biopsia ossea sono due parti fondamentali ci danno informazioni diverse ecco ma mi dica dottore quando un paziente arriva lì già con una semidianiosi insomma che è un po' in fausta e che quindi sarà già molto preoccupato e poi gli proponete una biopsia ossea dunque non la facciamo paura questa parola sostanzialmente direi che è un esame da fare per valutare e stratificare prognosticamente i pazienti ci dà un'informazione che può essere fondamentale per quel paziente per decidere la strategia terapeutica successiva quindi è indispensabile farlo direi da fare assolutamente perché ci permette di stratificare i pazienti tra quelli che noi potremo guardare nel tempo e quelli invece che eventualmente in associazione ad altri esami dovremo iniziare a trattare quindi è molto importante fare questa tipologia quindi ci sarà una parte di pazienti che potranno essere solo osservati solo osservati controllati quello che oggi si dice watch and wait guarda e aspetta e ci sono invece dei pazienti che unitamente i fattori che vedremo più avanti devono invece essere trattati bisogna iniziare quindi cominciamo a come dire sottolineare il fatto che in questo cappello che si chiama leucemia linfatica cronica oggi ci sono probabilmente due tipologie di malattie una che corre un po' più velocemente devo trattarla subito e una che va in maniera più indolente quindi posso osservare il mio paziente quindi la biopsia ossea è un esame fondamentale perché nella immagine che abbiamo visto allora vediamo lo so che abbiamo anche un filmato o c'è un'immagine sì per cui vediamo come avviene vediamo operativamente come avviene proprio la biopsia ossea mostriamo una biopsia midollare che è un esame per noi matologi fondamentale perché ci aiuta a capire la fabbrica delle cellule del sangue che è il midollo osseo se ha dei problemi e se è in qualche modo coinvolta dalla malattia la biopsia si compone di varie parti la prima parte è quella di un'anestesia locale che si fa a livello delle ossa del bacino della cresta idiaca posteriore e viene fatta una prima anestesia con l'idocaina al 2% che viene messa nel sottocute e poi viene anche posizionata a livello della teca esterna dell'osso quindi nella parte più superficiale dell'osso è un esame che per noi matologi è un esame che facciamo quotidianamente perché ci dà molto informazioni sia in malattie che coinvolgono direttamente le cellule del sangue ma anche in malattie che non coinvolgono direttamente il sangue ma che coinvolgono ad esempio i linfonodi tipo i linfomi e poi è possibile che anche tante malattie tumorali come alcuni tumori solidi possono coinvolgere le osse e coinvolgere il midollo osseo che è questo tessuto ubicato all'interno delle ossa adesso vedete facciamo un po' di anestesia il paziente non sente male è importante metterlo tranquillo tutto bene signora sente male ecco quindi il paziente viene posizionato in posizione supina con la pancia rivolta in basso in modo che si libera il bacino lasciamo aspettare 5 minuti ecco fatta la prima anestesia la lidocaina si aspetta due minuti che faccia effetto l'anestetico in modo che sia il sottocute che la cute cioè la pelle e anche l'osso diventano in parte anestetici possiamo rientrare in studio senti a toccare tutto bene vero signora adesso sentirà un pochino di freddo che spruzziamo un altro anestetico va bene ecco eccoci qua siamo rientrati in studio un attimo non per interrompere del tutto il filmato ma per precisare una cosa che giustamente la dottoressa Taiana ci tiene a rimarcare si fa il prelievo si fa dal bacino dalla spina iliaca del bacino perché altrimenti spessissimo i pazienti pensano di fare un prelievo nella colonna vertebrale anch'io inizialmente avevo pensato quello e poi ho visto comunque che veniva posizionata l'anestesia in un altro posto quindi ho immaginato quindi questa è la prima precisazione non diamo sempre per scontato il fatto che i pazienti sappiano bene che cosa gli succede infatti perché c'è molta confusione tra il midollo spinale e il midollo osseo per cui la prima cosa di cui si sente parlare più spesso è il midollo spinale quindi i pazienti spesso pensano di dover fare in realtà quella che è una racchicintesi mentre invece noi dobbiamo prelevare dalla spinelia non dico che sia piacevole però è sicuramente diversa come idea va bene detto questo ritorniamo invece a questo posizionamento professore la lasciamo lavorare dal filmato il tempo è commentato in questo momento praticamente l'ago si approfonda dalla cute al sottocute fino alla teca esterna del bacino e poi entra in uno spazio cavitario che contiene il midollo osseo adesso estraiamo il mandrino prendiamo una silinga ed aspiriamo una volta prelevato il materiale questo viene messo in una capsula di petri eccola qua dove c'è un pochino di liquido dopodiché c'è una parte di sangue midollare commista a dei frustoli di midollo che vengono prelevati uno a uno e strisciati poi nei vetrini quindi il compito dell'ematologo è quello di prendere questi frustoli eccone qua ne vediamo uno e poi vengono strisciati nel vetrino si si la dimensione dei frustoli può essere più o meno grande nei giovani generalmente i frustoli sono più grandi negli anziani il frustolo può anche essere generalmente più piccolo ma contiene più tessuto adiposo quindi più grasso perché diciamo che il midollo osseo è costituito da un midollo rosso che è attivo in senso emopoietico quindi che produce tutte le cellule del sangue globuli rossi globuli bianchi e piastrine e da una componente gialla che invece è il tessuto grassoso chiaramente con l'età aumenta la componente di sangue ricordo che tutti noi noi abbiamo circa l'8% del peso corporeo che è costituito da midollo osseo quindi abbiamo circa 5-6 litri ecco una volta che uno striscia i frustoli vengono essiccati all'aria per 10 minuti poi vengono colorati con un colorante che viene chiamato meigrunval-gimso comunque è una colorazione che permette di colorare le cellule ematopoietiche questa è poi la prima fase perché una volta identificate le cellule al microscopio vengono poi colorate con delle reazioni particolari che noi chiamiamo colorazioni citochimiche oppure con delle colorazioni immunistochimiche è stato fatto un prelievo anche di sangue di sangue midollare questo viene poi processato con degli strumenti più sofisticati che vengono chiamati citometria citoflorimetria per studiare eventualmente la malattia e anche studiare le cellule residue dopo chemioterapia oppure vengono processate per studi citogenetici per studiare i cromosomi per studiare i geni e fino a tecniche molecolari di biologia molecolare che oggigiorno sono fondamentali per fare la diagnosi del tipo di malattia ematologica e per monitorare la malattia dopo i trattamenti che noi facciamo ecco adesso abbiamo allestito tre vetrini proseguiamo con la seconda fase che è quella del prelievo proprio dell'osso ecco sempre nello stesso punto dove abbiamo fatto il primo prelievo di aspirato midollare facciamo un secondo prelievo di biopsia ossa con un ago un pochino più grosso che serve per prendere proprio un frammento di osso al cui interno al cui interno c'è il tessuto midollare quindi serve per vedere bene i rapporti tra tessuto midollare osso circostante e questo perché alcune malattie tendono proprio a infiltrare le trabecole osse beh quindi diciamo che per noi l'esame del midollo è un esame chiamiamo tra virgolette rutinario un esame che facciamo spesso ma non perché ci accaniamo nei confronti del paziente ma per noi ematologi la biopsia midollare è un po' quello che è l'elettrocardiogramma è un ecocardiogramma per il cardiologo è l'esame fondamentale per approcciare in maniera diciamo che è un po' più invasivo infatti siamo un po' rimasti senza parole anche se effettivamente ho sentito che lei chiedeva alla paziente quindi era abbastanza tranquilla no devo dire che facendo questi due tipi di anestesia in realtà il paziente non sente male proprio può sentire un piccolo dolore nella sede locale ma molto molto modesto e anche finito l'esame non è che si sente male neanche dopo dopo nel posto per cui devo dire certo la biopsia osse che è quella che vedete adesso dovendo prelevare vedete fra un pochino diciamo un frustolo un cilindro osseo è chiaro che è appena appena più invasivo però questo è un esame di seconda scelta non è che noi lo facciamo a tutti lo facciamo come diceva il dottor Spedini nell'ambito di alcune malattie quando dobbiamo avere delle informazioni prognostiche importanti e magari le riserviamo non dico chi è un po' più giovane ma insomma laddove riteniamo che questo esame sia veramente utile necessario per stratificare la promes per poter decidere come procedere ho capito esatto insomma quello che poi recita anche un po' il nostro slogan tutto quello che gli altri non vi hanno mai fatto vedere nella nostra trasmissione è sotto gli occhi di tutti perché sfido chiunque avere questa occasione di vedere come si fanno questi esami ecco qui è proprio il momento cruciale vedete che all'interno di questo agobiopsia rimane un cilindro osseo che sono un frustro dell'osso del bacino come diceva la dottoressa Tajana questo cade di circa 4-5 cm all'interno dell'osso c'è il midollo osseo e si vedono bene i rapporti tra il midollo con funzione emopoietica e le trabecole osse e l'osso stesso perché perché ci sono alcune malattie tipo il mieloma dove è veramente importante vedere bene i rapporti tra osso stesso e midollo osseo oppure in corso di metastasi di tumori solidi non è infrequente vedere quello che noi chiamiamo dei quadri di mieloftisi di infiltrazione di midollo da parte delle cellule tumorali non ematologiche quindi l'ematologo aiuta anche il clinico oncologo noi per esempio abbiamo un'ottima collaborazione con i vari centri molto importante e molto affascinante questo interscambio questa strettissima fitta relazione che avete interazione certo perché sa non tutte le malattie ce le hanno scritte in faccia chiaramente quello che hanno quindi quando noi vediamo un linfonodo una denopatia quello che è il percorso diagnostico di fronte a una denopatia è un percorso che può essere modulato in alcuni casi può essere il segno di un'infezione banale di una denopatia da virosi tipicamente tipo la virosi da Epstein-Barr-Virus e la monocleosi infettiva o da tante altre malattie simili le sindome simili monocleosi che da volte si tratta di una malattia che noi chiamiamo linfoma altre volte può essere purtroppo una metastasi del linfonodo da parte di un tumore solido ecco che le collaborazioni sono sempre molto strette noi per esempio con gli oncologi lavoriamo non solo nell'ambito dello stesso dipartimento quindi il dottor Passaracqua abbiamo ottime piani collaborativi ma spesso ci cambiamo informazione ci consultiamo per capire qual è la strategia migliore e naturalmente con l'anatomo patologo che è quello che legge le biopsie osse già perché abbiamo imparato strada facendo che il nostro corpo il nostro organismo non è fatto da distretti separati per cui se c'è una malattia in un organo non è detto che non si debba andare a ricercare è tutto un insieme quindi per capire il funzionamento ma anche l'evoluzione di una malattia bisogna a volte fare delle indagini come queste complesse ma che poi alla fine forniscono dei risultati utilissimi e quindi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere insieme questa biopsia midollare ossea sperando che sia stata utile alla paziente che è stata anche gentile a lasciarci effettuare le riprese certo no professore è stata sicuramente utile perché è un esame fondamentale questo possiamo dire tanto la paziente era coperta è un caso di linfoma linfoma poi sono di due tipi di Hodgkin e linfoma non Hodgkin una corretta stagiazione è fondamentale si compone da un attacco torace e addome come vedete lì questa è la differenza tra linfomi Hodgkin e un Hodgkin all'interno dei quali poi ci sono i linfomi aggressivi o ad alto grado di malignità e linfomi indolenti a basso grado di malignità in realtà il grado di malignità che è una cosa che colpisce molto il paziente paradossalmente non è sinonimo di guarigione perché paradossalmente sono proprio i linfomi ad alto grado di malignità che vanno in contraguarigione molto più frequentemente rispetto ai linfomi indolenti a basso grado di malignità questo perché i linfomi a basso grado di malignità delle volte rispondono meno alle terapie che noi effettuiamo quindi una diagnosi che apparentemente può sembrare senza appello senza speranza perché quando parli di un alto grado di malignità ti spaventi moltissimo e invece è quella che può garantire magari un successo migliore ecco un successo migliore una percentuale maggiore di successo ecco diciamo così ma io credo che noi clinici ematologi annoveriamo grandi risultati questo anche la dottoressa ha detto noi ematologi dell'adulto per le leucemie acute del bambino non abbiamo i risultati del bambino ma i bambini hanno dei risultati fantastici quasi il 90% delle leucemie acute del bambino guariscono quindi sono delle percentuali altissime e noi abbiamo tante malattie perché deve essere un'esperienza veramente terrificante sia per il bambino stesso che per la per la famiglia che sono esperienze tragiche però le posso assicurare che vedo tanti pazienti anche dall'adulto che vengono dopo 20 anni che hanno avuto una leucemia acute del bambino trattati per 3 anni con delle chemioterapie non hanno nessun residuato spesso per cui hanno poi uno sviluppo motorio mentale psicologico perfettamente normali quindi non hanno nessun residuato quindi sono persone del tutto indistinguibili alcune addirittura se lo dimenticano perché quando hanno queste malattie molto piccole praticamente per fortuna hanno solo il ricordo che la mamma gli dice tu hai avuto quando eri piccolo una malattia di cancellare di dimenticare le cose brutte le storie brutte bene è importante anzi che abbiano anche uno sviluppo armonico che consenta loro di essere veramente degli adulti normali sotto tutti i punti di vista il dubbio che ci può sorgere a questo punto è se questo tipo di esame un po' lei lo ha chiarito si fa solo per quel tipo di leucemia di cui parlavamo prima o se questo esame che abbiamo visto questa biopsia è valida per tutti i tipi ad esempio di leucemia tutti i tipi di linfoma di linfoma e quindi questo è la biopsia ossea la biopsia ossea è legata all'infoma l'esame invece di cui si parlava la biopsia ossea fa parte proprio della stadiazione cioè della valutazione dell'estensione della malattia e la valutazione dell'estensione della malattia cambia lo stadio del paziente cambia la sua prognosi cambia la sua terapia quindi è assolutamente fondamentale nel filmato abbiamo visto l'aspirato del midollo nella siringa e la biopsia ossea sono due momenti diversi che non a tutti i pazienti ecco il caso ha voluto che nello stesso paziente nella signora ci sia stata necessità di indagare le due cose questo perché le due indagini danno informazioni diverse e danno informazioni che devono essere poi fanno parte del completamento della stadiazione della malattia nel senso che sul sangue dell'aspirato midollare facciamo degli esami di tipo morfologico ma facciamo anche degli esami molto più sofisticati per esempio l'analisi immunofenotipica quindi l'analisi citometrica studiamo alcuni come dire marker caratteristici delle cellule patologiche facciamo degli esami di analisi dei cromosomi quindi di biologia molecolare di fish di cariotipo e lo facciamo sull'aspirato del midollo la biopsia ossea è un esame istologico che come ha detto il professor Lanza ci aiuta a meglio come dire a analizzare i rapporti che ci sono tra la componente la matrice emopoietica cioè la fabbrica delle cellule del sangue dei globi rossi dei globi bianchi e delle piastine e la componente ossea l'architettura dell'osso ma quando noi stiamo a parlare molto di cellule staminali ecco ma le staminali del sangue in quale noi le abbiamo viste quando lei strisciava qualche cosa no no sto staminali sto come si chiamano nel caso del sangue si chiamano i blasti no 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 staminali emopoietiche emopoietiche i blasti sono le cellule leucemiche ah i blasti purtroppo sono le cellule quelle che sono degenerate ahimè dunque delle cellule staminali ne parlerò dopo quando si parlerà di trapianto perché diciamo che le cellule staminali è un po' il fulcro attorno al quale gira tutto il trapianto le speranze del futuro che sia il trapianto autologo che tutti gli altri tipi di trapianto ecco e poiché io ho guardato l'orologio di sfuggita e mi sono spaventata anche per questo che siamo già andati molto in là col tempo io direi di dare un po' di ritmo alla nostra trasmissione e è il momento adesso di di parlare di espianto di midollo come ci arriviamo? incominciamo a parlare di terapia a questo punto direi ma o se no parliamo proprio solo un attimo delle staminali a questo punto visto che lei le ha citate cioè spieghiamo cosa sono più che altro nel senso che bisogna immaginare che il midollo osseo che è la fabbrica come diceva Dottor Spedini dei globuli rossi dei globuli bianchi delle piastrine cioè degli elementi che circolano nel sangue sta è localizzato in tutte le ossa piatte quindi nelle coste nel bacino nel cranio poi negli estremi degli omeri dei femori e lì dentro ci sono tutti i precursori dei globuli rossi dei globuli bianchi delle piastrine in varie fasi di maturazione ma soprattutto anche le cellule staminali che sono in una nicchia perché la cellula staminali è un compito preciso cioè replica se stessa e poi da quella sua copia parte diciamo un meccanismo di differenziazione e maturazione cioè una di queste due cellule che si formano da duplicazione diventerà un globulo rosso piuttosto che un globulo bianco piuttosto che una piastrina quindi è la fonte vera e propria e sta ben protetta nella sua nicchia nel suo essere esatto e sta nella sua nicchia è protetta per cui per farla uscire per quei motivi che servono a noi per mobilizzarla e poi usarla per i trapianti e metterla via dobbiamo indurla a entrare in circolo e per farlo o usiamo dei fattori di crescita che stimolano proprio solo praticamente l'uscita dalla nicchia della cellula oppure delle chemioterapie vere e proprie in seguito alle quali poi c'è l'immissione in circolo di queste cellule che noi siamo in grado di raccogliere con una sorta possiamo definirla di vera e propria autodonazione nel senso che il paziente dona a se stesso il sangue viene prelevato da una vena viene praticamente come si può dire stratificato in modo da riconoscere solo le cellule staminali che hanno delle caratteristiche particolari dalle altre cellule che girano le altre cellule vengono rimmesse nell'altra vena e in questa sacca che poi viene lavorata ovviamente rimangono solo le cellule staminali che vengono poi congelate vengono congelate in azoto liquido e poi ne parlerà credo il dottor Umberto Bodini di questa procedura si abbiamo infatti un intervento e vengono congelate in azoto liquido a meno 180 gradi 190 gradi e rimangono lì in attesa che il paziente che sia pronto sia pronto a riceverle di nuovo il suo proprio autotrapianto trapianto autologo che sono poi i trapianti che voi effettuate nel centro di riferimento molto bene adesso sorbiamo di nuovo una pausa pubblicitaria velocissima poi vi raccomando restate con noi perché avrete occasione di vedere appunto queste cose di cui abbiamo già accennato bene velocemente ripassiamo la parola al dottor Spedini ce l'avamo lasciati anche un po' con la visione delle staminali ma forse molti di voi avranno ancora negli occhi le immagini di quel prelievo che abbiamo visto di quella biopsia amidollare e poi anche ossea per cui insomma chiediamoci ancora è servito aver fatto un esame così impegnativo per fare una stadiazione assolutamente come dicevamo e per progredire per proseguire come nella terapia direi se mandiamo poi le diapositive vi dimostrerò risponderò alla sua domanda se è servito come proseguiamo proseguiamo facendo delle analisi più sofisticate sul prelievo che abbiamo fatto aspirando il midollo tra queste analisi se ci sono le diapositive possiamo fare l'analisi cosiddetta immunofenotipica ecco che vediamo quei CD che sono marker di come dire differenziazione dei litociti sono espressi in maniera peculiare per le nostre patologie qui vedete una coespressione del CD5 e del CD19 che caratteristica un'espressione più bassa dell'immunoglobulino di superficie di questo linfocito e quel CD20 che ha un'espressione bassa nella leucemia linfatica cronica ma che vorrei sottolineare perché è un target cioè un recettore contro il quale noi abbiamo terapie mirate cioè le cosiddette terapie intelligenti quelle che possono e che hanno i farmaci biologici che hanno cambiato assolutamente la storia soprattutto nell'ambito dei linfomi quindi lo studio di questi marker non è solo utile da un punto di vista diagnostico ma è anche importante perché questi stessi marker sono bersaglio di farmaci che come dire scagliati da un arco sono frecce intelligenti che vanno a colpire la cellula malata perché la grande il grande problema della chemioterapia problema virgolette è che la chemioterapia è una terapia come dire che è poco selettiva non intelligente si dice che spara un po' sul esattamente spara nel mucchio colpisce le cellule malate ma colpisce purtroppo anche le cellule sane e questo è alla base degli effetti collaterali che spaventano della chemioterapia e cioè l'abbassamento dei globuli bianchi l'abbassamento e quindi la maggior suscettibilità a sviluppare infezioni l'abbassamento dei globuli rossi quindi la stanchezza che nel paziente diventa assolutamente addirittura intollerabile l'abbassamento delle piastine che può predisporre anche a problemi di tipo emorragico quindi a problemi di sanguinamento ancora andando avanti proseguendo nella nostra come dire nella nostra stratificazione del paziente facciamo una stratificazione anche sulla base dell'analisi dei cromosomi ci sono dei cromosomi che il cui riscontro ci permette di come dire clasterizzare cioè stratificare mettere uso un'espressione un po' brutta in una casella quel paziente e ci sono dei marker cromosomici che hanno significato prognostico o favorevole o sfavorevole e vanno sempre fatti questa che vediamo che si vede male è una come dire quindi voi potete anche prevedere come sarà la storia di quella malattia di quel paziente è assolutamente corretto non solo potete dovete prevedere bisogna fare così se no si rischia di trattare pazienti che potrebbero essere solo osservati e magari si rischia di sottotrattare pazienti che invece dovrebbero in prima linea di terapia fare terapie subito aggressive perché le caratteristiche biologiche di quel linfocito che abbiamo visto sono di aggressività ecco il grande cambiamento che c'è stato negli ultimi tempi rispetto all'ematologia di 20-30 anni fa è che oggi noi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che vede l'occhio cioè di poter stabilire con questi esami come dire quale linfocito è più indolente e quale linfocito è più cattivo anche se all'esame mio microscopico i due linfociti sono identici sembrano apparentemente tutti e due sullo stesso piano quindi questo è sostanzialmente nella stratificazione noi abbiamo anche degli esami più banali gli esami per esempio di alcuni parametri che ci sono negli esami del sangue per esempio la beta 2 microglobulina del siero piuttosto che il tempo di raddoppiamento dei linfociti sono tutti esami che ci permettono di stratificare ecco i pazienti arrivando alla stadiazione arrivando a chiudere una stadiazione e a decidere come comportarci con quel paziente una cosa che sottolineo è che nel nostro centro abbiamo un rapporto molto diretto nel senso che questo che io ho detto è assolutamente nelle varie fasi spiegato al malato nel senso che il rapporto col malato deve essere assolutamente condiviso cioè la strategia di terapia deve essere discussa certo col paziente e facendo un passo avanti sulla terapia poi magari e quindi i pazienti accettano di buon grado di sottoporsi anche a queste terapie sia pesantissime come la chemioterapia sia abbastanza innovative ma probabilmente avranno qualche effetto collaterale anche i farmaci ci sono anche effetti collaterali chiaramente dell'immunoterapia però diciamo che si tollerano meglio si tollerano meglio e quello che vorrei sottolineare è che le due oggi sono come dire simbiontiche nel senso che una potenzia l'effetto dell'altro il farmaco intelligente colpisce la cellula malata e la chemioterapia come dire rimane comunque un cardine della terapia di queste malattie non possiamo nasconderci e dire che è tutto sulla terapia intelligente ci sono per la verità altre malattie ematologiche penso alla leucemia migliode cronica per esempio dove veramente oggi ci sono dei farmaci nuovi assolutamente innovativi insomma che rappresentano poi il cardine terapia hanno completamente cambiato la storia di queste malattie nella leucemia linfatica cronica ecco è molto come dire nei pazienti più giovani l'immunochemioterapia ha aumentato la percentuale di pazienti che vanno incontro a remissioni completi in maniera veramente importante e la percentuale di risposte complessive in maniera veramente molto molto importante questo è come dire una notizia molto importante ecco da dare ecco una buona notizia perché ovviamente si soffre nei momenti nei mesi della terapia nei mesi o anni talvolta della terapia però se al traguardo è la guarigione si può anche accettare tanta sofferenza certo va bene possiamo quasi concludere questo capitolo che poi ci porta a un piano terapeutico che può essere sovrapponibile anche a quello degli altri delle leucemie anche degli altri linfomi in effetti la leucemia linfatica cronica quando ha un'espressione ci sono delle varianti per esempio di interessamento splenomegalico puro rarissime però può ecco essere assimilata se così vogliamo dire agli altri linfomi si può anche se c'è un'espressione linfodale chiamare linfoma linfocitico tendenzialmente ma anche negli altri linfomi penso ai linfomi tra gli indolenti linfoma follicolare o tra gli aggressivi linfoma diffuso a grandi cellule B dove l'immunoterapia con un farmaco che è proprio la freccia contro quel CD20 che abbiamo visto prima che è espresso dai linfociti ha cambiato la storia completamente di queste malattie permettendoci di raggiungere percentuali di guarigione soprattutto linfomi aggressivi importanti se vi esponete sino a usare il termine guarigione vuol dire che siete consci di poterlo fare potervi esporre così perfetto io adesso invece affiderei il compito alla dottoressa Tajana di portarci al discorso dei trapianti quindi prima degli espianti perché la terapia diciamo la grande risorsa che negli ultimi posso dire nell'ultimo decennio forse qualcosa di più ha rappresentato il salto di qualità è proprio quello è il trapianto il trapianto di cui dicevamo prima voi attuate soprattutto il trapianto autologo perché potrebbe essere fatto anche il trapianto da donatore che in questo caso ha quale termine tecnico allogenico allogenico sì sì il trapianto allogenico ha ancora una validità molto grossa soprattutto quando si parla di leucemia acute ad alto rischio cioè alto rischio vuol dire di recidiva con la sola chemioterapia che quindi richiedono già in prima linea un trapianto da donatore se non esiste il donatore diciamo familiare addirittura si va a cercare al di fuori della frattere si va a cercare nel registro dei donatori di midollo ecco questa sera noi infatti avremmo voluto parlare anche con una rappresentante dell'AIL e comunque cogliamo l'occasione per ricordare il valore della donazione in questo caso l'AIL che è l'associazione italiana contro le leucemie svolge un compito fondamentale proprio nel promuovere questa cultura nel divulgare l'informazione che il gesto della donazione può essere risolutivo per salvare una vita perché ancora oggi rappresenta una fonte interessante ed è difficile perché mi pare che nell'ambito della stessa famiglia ci sia una possibilità un fratello su quattro può essere il donatore quello compatibile quindi rendetevi conto come diventano molto più rare le possibilità in altri gruppi in gruppi eterogeni però è importante che ci sia questa opportunità perché spesso nell'ambito familiare non si trova il donatore o perché non ci sono fratelli compatibili o perché non ci sono proprio fratelli insomma ricordo a Cremona quel caso che fece discutere ma che può essere risolse quasi come per miracolo di un fratellino di un fratellino procreato proprio con con questa finalità ecco diciamo che in tal senso vorrei fare una piccola aggiunta che ha citato giustamente l'AIL allora l'associazione italiana leucemia è un'associazione a scopo volontaristico che lavora in stretta simbiosi con noi ematologi perché aiuta i malati affetti da malattie ematologiche aiuta i centri ematologici a effettuare ricerche a avere apparecchiature per curare al meglio i pazienti con malattie ematologiche però e poi c'è un'altra associazione che è l'ADMO che è l'associazione donatori midollo osseo che è questa è quella che che specificamente promuove la cultura della donazione di midollo e la donazione delle cellule staminali è proprio l'ADMO ha ragione è l'ADMO e diciamo noi collaboriamo con l'ADMO perché è quella associazione che incentiva la donazione i donatori ad avvicinarsi a fare queste tipizzazioni HLA che rappresentano il prerequisito per arrivare poi a fare la donazione quindi diventare donatore di midollo è una occasione rara nella vita poi se avanza il tempo noi vedremo abbiamo proprio realizzato a Cremona c'è stata una coppia che ha fatto diciamo così un plain negli anni precedenti tanti anni prima fu la la moglie e poi a distanza di quasi un ventennio mi pare è stato chiamato a donare perché sono delle evenienze piuttosto rare cioè un donatore in sostanza che cosa fa una persona che aderisce all'invito dell'ATMO dona il sangue fa un prelievo di sangue e viene tipizzato si fa quindi si decide che sangue è si danno tante indicazioni poi si mette in una banca dati esatto si fa un profilo di stocompatibilità si inserisce tutto in una banca dati e quando il paziente e se nel mondo in Europa in Italia o appunto come dicevo in un angolo del mondo qualche d'uno ha un sangue ha bisogno da proprio il sangue compatibile al proprio e allora lì si viene chiamati proprio a fare la donazione di midollo si che poi non è il sangue è il midollo perché è una cosa ancora un po' diversa si perché diciamo si vanno a cercare delle caratteristiche diverse che sono proprio del sistema di stocompatibilità però si va a cercare c'è una possibilità su centomila di trovarlo per cui il fatto che insomma un marito e una moglie abbiano donato tutti e due è stata una cosa veramente bellissima ecco degna di diventare una notizia che ha circolato proprio su tutti i quotidiani tra l'altro cosa strana tutti e due hanno donato proprio il midollo mediante espianto cosa che adesso praticamente quasi non si fa più cioè mentre per la moglie diciamo era ovvio era la prassi perché era 20 anni prima adesso con l'avvento appunto delle staminali del sangue periferico la possibilità di raccoglierle sono partite dottoressa le immagini dell'espianto di midollo adesso scusi l'ho interrotta appunto no dicevo con l'avvento non si fa quasi più qua c'era un'esigenza clinica proprio partiva praticamente dalla richiesta del centro che aveva bisogno per cui abbiamo fatto l'espianto qua in camera operatoria ci sono il dottor Lanza e la dottoressa Fiamenghi che è l'altra nostra collaboratrice che non è venuta fondamentalmente il concetto è un po' quello che abbiamo visto della biopsia ossea cioè l'ago è un pochino più grosso è cavo la sede è sempre quella la spina iliaca però bilaterale c'è un operatore da una parte un operatore dall'altra perché il quantitativo che si doveva togliere in questo caso tra l'altro era di un litro e mezzo se non sbaglio cioè era tantissimo ah è tanto rispetto rispetto alla media insomma di quello che dovrebbe avvenire si dipende dal ricevente cioè chi deve ricevere quelle cellule ha un peso corporeo cioè può essere più o meno pesante in questo caso il ricevente era 100 kg quindi aveva bisogno di molto materiale e il materiale chi glielo può dare è il donatore il donatore quindi questo è il marito questo è il marito è proprio il marito che è in anestesia spinale e che si sta prestando a essere si può dire un po' traforato perché in effetti questi donatori ricevono sulla cresta iliaca circa 4 o 5 diciamo biopsie dalle quali si estrae poi il midollo con delle rotazioni ecco cogliamo l'occasione per chiedere si soffre è un gesto sicuramente generoso ma è anche un gesto eroico nel senso che si rischia qualche cosa no non si rischia direi di no soprattutto diciamo che il rischio più grosso era legato quasi all'anestesia generale che non all'espia quello che adesso si chiama prelievo il rischio è legato all'anestesia adesso si è bypassata questa cosa appunto ricorrendo all'anestesia spinale rischia un po' di dolore dopo chiaramente che comunque di solito rimane controllato con degli analgesici normali certo diciamo qualche giorno di riposo però qualche giorno di riposo sicuramente perché si animizzano comunque per quanto di solito ci sia sempre un predeposito lui l'aveva avere un predeposito due sacchi di sangue infatti che poi gli sono state restituite queste sono sono state reinfuse reinfuse di prezioso non può essere buttato via deve essere trattato proprio con grandissima cura e grande competenza sembrano contate le cellule cioè sembra semplice ma dietro c'è una certa e poi sì nell'arco di qualche settimana però si ripristina no? si ripristina sicuramente magari ci mette anche un pochino di più però comunque si ripristina se no ci sarebbe ovviamente se no sarebbe un danno permanente non sarebbe fattibile chiaramente questo sì molto bene riusciamo a vedere anche qualche cosa di infusione di midollo adesso quindi la fase diciamo la fase successiva non riguarda a questo punto lo stesso qui il donatore ha già concluso il suo compito possiamo dire che sta bene il donatore sta bene sì perché ormai è passato più di un mese vero credo sì anche due forse da quando abbiamo effettuato questa immagine anche un paio di mesi ma lui è uscito il giorno dopo che stava già bene ed era sicuramente felice per aver compito un gesto bellissimo è stato veramente bravo e per aver probabilmente speriamo offerto un'occasione di vita a un'altra persona sì sì ecco adesso vediamo invece quando la persona deve ricevere esatto questa è la prima immagine e in questo caso è un in questo caso è un è autologo autologo il cui scopo rispetto al trapianto allogenico è diverso queste sono le due sacche di cellule staminali periferiche che abbiamo prelevato alla paziente in un'occasione precedente il trapianto autologo permette di fare una chemioterapia cosiddetta mieloablativa cioè una chemioterapia a dosi sovramassimali che se non ci fossero delle cellule da reinfondere praticamente determinerebbe una plasia irreversibile cioè il paziente non potrebbe mai più recuperare cioè voi gli fate una chemioterapia fortissima che porta proprio quasi a zero diciamo le sue riserve e quindi è proprio voluto cioè noi possiamo fargliela solo grazie al fatto che possiamo ridare le cellule staminali quindi sono momenti molto delicati per quel paziente perché è molto vicino alla morte insomma quel paziente rischia veramente la sua vita rischia la sua vita nel senso che se dovesse succedere che non succede di solito ovviamente la raccolta è fatta in modo da avere delle sacche anche diciamo in più però facciamo diciamo per assurdo che dovesse sarebbe a un punto di non ritorno ma per fortuna cioè voglio dire è tutto mirato nel senso che voi avete già predisposto questo prezioso per cui la cura è la chemioterapia ovviamente però la possibilità di farla è data dal fatto che poi noi reinfondiamo queste cellule staminali che ripopolano il midollo si ricorda dottoressa che io prima ero un po' scettica o forse più che scettica ero in credula e le chiedevo ma come mai in una persona che ha già così compromesso il suo patrimonio di cellule ematiche andate ad accanirvi con una chemioterapia fortissima e come mai la chemioterapia fortissima deve avere l'effetto anche di far di rendere più vitali di far uscire allo scoperto le staminali quello è il passaggio precedente quando avete fatto l'espianto che ci permette che naturalmente fa parte della cura del paziente ci permette anche quindi prima la chemioterapia per portare a galla diciamo così per far fuori uscire le staminali e poi una chemioterapia ancora più massiccia per curare perché in pratica per distruggere quello che resta della malattia perché stiamo parlando in questo momento o di linfomi recidivati o di linfomi che comunque dall'inizio avevano una prognosi sfavorevole o di mielomi multipli anche che arrivano sempre all'autotrapianto per il loro percorso terapeutico allora in questo caso noi abbiamo ricevuto prima le sacche che fumavano perché erano ammerse in azoto liquido dall'azoto liquido bisogna riportarle a temperatura ovviamente del paziente per cui vengono immesse in un bagnetto termostatato a 37 gradi quando hanno raggiunto la temperatura giusta vengono reinfuse qua prevede una serie di passaggi in sterilità per raccordare la sacca al deflussore e per raccordarla poi al catetere venoso centrale del paziente e poi questa è l'infusione che a tutti gli effetti sembra un'infusione di una sacca di sangue normale una trasfusione invece è invece sono cellule staminali è la vita è la vita è la vita a tutti gli effetti e sotto c'è un paziente che proprio aspetta di essere recuperato esatto mentre quindi questi sono passaggi molto delicati che immagino che voi a livello proprio di echippe poi abbiamo visto che siete costretti a lavorare appunto con il centro trasfusionale cioè voglio dire sono momenti che vivete con una certa posso dirlo con una certa ansietà con particolare trepidazione insomma cioè viviamo anche con trepidazione soprattutto i giorni dopo perché comunque prima che questo midollo attecchisca il paziente ha ancora una fase in cui non ha i globuli bianchi completamente gli dobbiamo fare le trasfusioni ed è diciamo il momento più delicato quindi i giorni più critici sono le ore più sono dopo perché aspettiamo che attecchisca questo midollo di solito succede in decima dodicesima giornata e sono diciamo quelli in cui noi abbiamo più ansia sicuramente perché innanzitutto sono quelli in cui rischiano delle infezioni però l'ansia c'è senza dubbio io volevo dire solo una cosa che il centro trasfusionale per noi è veramente una linfa e bisogna ringraziarli per tutto quello che fanno ma li abbiamo conosciuti abbiamo conosciuto appunto il dottor Bodini e sono veramente bravi appassionati proprio credo appassionati quanto voi insomma poi se mi permette un attimo volevo ringraziare tutte le nostre infermiere il nostro staff perché sono tutte donne quindi possiamo parlare al femminile è molto importante l'accoglienza perché ricordiamo ma penso che chiunque si sia reso conto seguendo la trasmissione che è un reparto bello abbiamo visto anche confortevole anche con uno standard alberghiero come si diceva all'inizio però sono è un luogo di comunque di dolore di paura di preoccupazioni e di sofferenza anche per molti diciamo che poi i nostri pazienti per la loro tipologia il fatto che hanno i globuli bianchi ammalati se sono leucemi acute o che si sottopongono a questo tipo di procedure per cui non hanno per un certo periodo i globuli bianchi sono costretti a stare in stanzette isolate che sono protette perché hanno un filtro a pressione positiva che manda dentro l'aria depurata diciamo dai germi esterni però questo costringe il paziente a stare veramente isolato nella stanzetta con le persone quindi in solitudine con i propri pensieri e il proprio damma quindi psicologicamente è più difficile devo dire che noi abbiamo uno staff comunque che è molto di supporto cioè sono molto brave le ragazze quindi le ringraziamo e le elogiamo veramente di cuore bene io direi che adesso mi hanno fatto cenno che abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria a rientro so se abbiamo rubiamo ancora un minuto perché visto che lo avete citato il dottor Bodini so che ha fatto un intervento di un minuto solo e poi apriremo anche il telefono resterebbero molte cose da dire ma magari ci riserveremo un'altra puntata con l'anno nuovo bene speriamo che la pubblicità non abbia fatto perdere la concentrazione eravamo arrivati a un punto molto bello abbiamo visto l'espianto di Midollo e poi abbiamo visto l'infusione di Midollo quindi momenti veramente cruciali per la vita di questi sfortunati pazienti che però hanno veramente una speranza e so che dobbiamo aggiungere qualche cosa di terapie quindi dovevamo vedere e forse la regia ci può aiutare una battuta del dottor Bodini eccolo il centro trasfusionale è il laboratorio dove si esegue una gran parte dell'attività di supporto all'ematologia per quanto riguarda l'attività di trapianto nel senso che noi abbiamo la strumentazione che serve per raccogliere le cellule staminali che come sapete sono le cellule destinate proprio a ripopolare in questi pazienti con gravi emopatie il midollo osseo ci sono delle strumentazioni si chiamano separatori cellulari in termine tecnico che servono a raccogliere o da un individuo sano il donatore oppure dallo stesso paziente in determinate condizioni della momenti della malattia le cellule staminali che poi dopo andranno ritrapiantate successivamente quando le condizioni di salute lo consentiranno in questi pazienti per riprendere nel tentativo di riprendere una vita normale presso il centro trasfusionale si eseguono anche tutta una serie di indagini presso i laboratori del centro trasfusionale che sono di un supporto importante per tutta la parte diagnostica c'è un settore che si chiama citoflorimetria dove appunto vengono studiate le varie popolazioni cellulari con le loro caratteristiche particolari che sono di grande aiuto per definire il tipo di patologia che poi dovrà essere trattato e curato molto bene ha fatto bene a chiarire prima della telefonata chiedo scusa al telespettatore un attimo di pazienza c'è un'altra persona che vorremmo citare che compie che abbiamo visto anche nelle immagini è la dottoressa Chiara Lazzari che per noi è una colonna portante insomma anche dell'ematologia è una biologa interamente sovvenzionata dall'associazione italiana leucemia con una borsa di studio dell'associazione italiana leucemia quindi essendo consigliere quindi non è una dipendente dell'ospedale assolutamente no e ringrazio come consigliere tutte le persone che generosamente hanno contribuito nella recente campagna delle stelle di Natale a questo perché qui i soldi vanno a finanziare delle persone che poi fanno quell'analisi immunofenotipica che abbiamo visto per esempio nell'eucemia infatica alcolica che è assolutamente indispensabile è veramente nevralgica tutte le nostre patologie sia acute che croniche e quindi questo è un ringraziamento doveroso e come dire da sottolineare è giusto fare sì ma veramente abbiamo capito quanto è importante che il vostro lavoro sia svolto nella massima serenità ma anche collaborazione con tante figure chiave chiedo scusa professore le riserverò il tempo di di concludere quel quadro di terapie importantissime che poi sono quelle che ai pazienti interessano molto però rispondiamo a un paio di telefonate almeno promettendo però a tutte le persone che hanno chiamato questa sera e che ci dicono essere abbastanza nonostante l'argomento piuttosto impegnativo che tutte avranno una risposta di impegnate a chiamarli nei giorni nei prossimi giorni e a sentire quali sono i loro problemi e a dirizzarli verso il centro più corretto per loro più vicino insomma più comodo sentiamo chi c'è in linea pronto? pronto buonasera buonasera a lei? io la chiamiamo da Pavia da Pavia? anche se sono di Napoli ah sì volevo un attimino allora mio figlio gli è stato diagnospicata ad ottobre 2008 una leucemia mieloide cronica trattata con il Glivec che ha avuto il suo diciamo abbastanza positivo il suo percorso poi ha avuto un trapianto a marzo del 2009 fortunatamente dalla sorella compatibile al 100% ora siamo a nove mesi fortunatamente sta andando tutto bene la mia domanda era questa il rischio di recidiva in questi tipi di leucemia di trapianti e entro quanto tempo diciamo si può avere una certezza tra virgolette che non ci sia un'eventuale recidiva una domanda quanti anni ha suo figlio mio figlio ha compiuto 11 anni a maggio siamo al spolliclinico San Matteo solo per controllo adesso però diciamo il trapianto l'ha fatta e posto il trapianto per l'ora è passata e sta bene adesso il suo bambino fino adesso procede tutto bene perfetto allora professore se ho capito bene buon Natale si mi dica buon Natale anche a lei grazie della telefonata che abbiamo molto apprezzato questo è un tema importante quella della leucemia meloide cronica è un tema che anche noi affrontiamo quotidianamente con il cromosoma fila del esatto è una malattia più frequente nei soggetti adulti più raramente succede nei bambini nei bambini più spesso sono patologie mieloproliferative fila delfia negative ma chiaramente ci sono anche queste malattie fila delfia positive quindi la leucemia meloide cronica è una di quelle malattie è un'alterazione cromosomica quindi è un cromosoma in cui c'è una traslocazione tra il cromosoma 9 e il cromosoma 22 quindi un pezzettino del cromosoma 9 va nel cromosoma 22 e questa anomalia citogenetica è patogenetica ezopatogenetica vuol dire che determina la malattia insorgenza della malattia ecco perché la terapia col glive che è una terapia potenzialmente curativa perché è uno delle prime esempi di terapie biomolecolari perché sono terapie intelligenti delle pallottole magiche che agiscono selettivamente inibendo questa anomalia molecolare quindi queste cellule malate di tipo leucemico sono marcate da questa anomalia molecolare di cui c'è un farmaco specifico che è una medicina che si prende per bocca e che può curare la malattia in questo caso per una ragione che probabilmente andrà capita meglio i colleghi di Pavia che sono dei colleghi all'avanguardia sicuramente questo ragazzino ha la fortuna di essere curato in uno dei centri sicuramente più prestigiosi e migliori penso di sì credo che sarà probabilmente il professor Locatelli comunque sicuramente un centro di grande prestigio hanno pensato di effettuare un trapianto di tipo allogenico quanto bisogna aspettare per sapere se si è guariti ma diciamo sicuramente bisogna arrivare a quei canonici 5 anni 3-5 anni però se la malattia in questo momento è scomparsa e non ci sono evidenze di riprese a livello molecolare cioè gli studi molecolari documentano la negatività di questa alterazione cromosomica e molecolare possiamo dire che il paziente è molto probabilmente non avrà recidive perché poi questa è proprio l'ansia credo di tutti e di tutti i genitori soprattutto quindi davvero auguriamo una vita serena e fortunata a tutta questa famiglia bene fatemi un cenno c'è un il tempo di passare quindi un'altra telefonata beh si diceva che volevamo riservarci qualche minuto per parlare proprio del futuro di queste terapie il farmaco nominato credo che rappresenti già un concreto beh questo è il farmaco che abbiamo citato il farmaco capostipite di queste farmaci di tipo intelligente che eravamo già stati citati precedentemente dal dottor Spedini diciamo che entriamo nell'ottica del ventunesimo secolo di queste terapie intelligenti che agiscono cercando di guarire direttamente i danni molecolari i danni diciamo genetici che determinano la malattia quindi un farmaco come questo sostituisce manda in pensione la chemioterapia completamente non ha bisogno di essere supportato da chemioterapici ha cambiato completamente la storia di questa malattia che prima inevitabilmente aveva una fase cronica cosiddetta di circa due anni e mezzo massimo quattro poi una fase accelerata e poi comunque arrivava al trapianto l'unica possibilità era il trapianto altrimenti in 5-6 anni il paziente lo si perdeva e con questo farmaco è cambiata completamente la storia completamente bene rispondiamo a un altro telespettatore pronto? pronto una signora che ci chiama? signora Luciana da Biettegrasso provincia di Milano anche a lei benvenuto signora sì allora anch'io sono in cura a Pavia come il figlio del signore precedente per una leucemia mieloide cronica ecco io sono 10 anni che sono in cura prima ho fatto la cura tradizionale che era l'interferone e che purtroppo mi ha causato una neuropatia poi sono passata nell'altro protocollo e prendo il bivic io sono come cromosoma Philadelphia negativa mentre ho la molecolare che per una volta è stata negativa e adesso ho uno 0,0018 devo continuare a prenderlo questo glivec sì assolutamente signora assolutamente sì deve continuare a prenderlo il glivec perché non ci sono assolutamente ad oggi dei dati che facciano pensare che sospendendo il glivec la malattia non si ripresenti per cui l'indicazione è comunque andare avanti per quella sua comunque è una risposta molecolare maggiore quindi deve continuare a prenderlo questo farmaco è ben tollerato lo chiediamo alla telespettatrice perché lei voleva sospendere io ho delle controindicazioni nel senso che mi provano dei crampi dei forti crampi sarà per quella neuropatia che diceva prima? posso chiedere quante compresse prende? 4? io ne avevo sempre prese 4 ma adesso ultimamente con questi crampi e con questi dolori la dottoressa di Pavia me l'ha ridotta tra però rispondo bene lo stesso ma su questo posso voglio in qualche modo rassicurarla ci sono dei protocolli nazionali che sono stati avviati da poco che stanno cercando di comparare un trattamento con glivec quotidiano con rispetto a un trattamento intervallare cioè un periodo in cui fai il glivec e qualche mese in cui non lo fai e questi i primi risultati sembrano documentare che i risultati siano confrontabili per cui mi sento di rassicurare che un calo un dosaggio ridotto di terapia per piccoli intervalli di tempo non le compromette assolutamente la sua prospettiva di cura perché sono 10 anni praticamente che prende il glivec e per una sospensione no allora stia tranquilla che se per un periodo e poi ci sono in prospettiva anche altre medicine lei sappia che sicuramente se fra qualche anno si voglia in qualche modo modificare la terapia il glivec è il capostipite di una classe di farmaci che sono gli inibitori delle tirosinchinasi di cui ce ne sono almeno altri due ma nel giro di pochi anni ne avremo anche altri quattro farmaci che possono sostituire il glivec con risultati pari o anche superiori al glivec stesso ecco signora quindi un po' di pazienza immagino che prendere un farmaco queste sono terapie che si prolungano nel tempo e probabilmente stancano lo dice anche la dottoressa però se resta l'unica risorsa per ora penso che sia già comunque una risorsa importante ecco perché la signora comunque è viva ci ha telefonato e probabilmente ha un'ottima risposta anche per cui ecco sta bene facciamo tanti auguri guardate vorrei parlare ancora con qualche telespettatore però mi sa che abbiamo ampiamente superato va bene allora un'altra telefonata sforiamo ma non fa niente pronto? fatemi un cenno pronto? pronto? un signore che ci segue da dove? da Napoli da Napoli ma lei quindi ci guarda dal satellite? si si la sto guardando e e niente innanzitutto buonasera buonasera a lei e benvenuto che ci guarda da molto lontano ci dica certo senta io ho un problema con mio fratello che adesso abbiamo fatto degli analisi di sangue per il fatto del midollo spinale e niente voglio sapere le conseguenze che portavano da un fatto genitale oppure non so come cioè voglio sapere se è una cosa che dobbiamo fare in tutta la famiglia oppure capita una cosa dei genitori stessi che hanno portato questa malattia ma qual è la malattia forse mi è sfuggita mi scusi no ecco questa malattia che è mio fratello che ha un problema al midollo spinale che abbiamo cioè dobbiamo fare la donazione del midollo ah ho capito il problema è del fratello e al midollo spinale non so quanto siamo inerenti all'argomento alla donazione del midollo per cui non vorrei che lui invece forse è equivocato magari guardando il nostro filmato ma il nome della malattia ce lo sa dire di suo fratello? ecco un attimo il nome della malattia sai qual è? fibrosi fibrosi sistica allora no siamo in un altro ambito ci spiace infatti ne tratteremo in prossime puntate se avrà la compiacenza di richiamarci grazie buonasera forse abbiamo cioè non è che abbiamo generato ma un telespettatore magari che ci segue magari e non tutto nell'arco della trasmissione sappiamo che molti fanno zapping e quindi curiosano un pezzettino e quindi magari equivocano possiamo salutare o avete un'altra telefonata in attesa bene allora abbiamo promesso a tutti gli altri che hanno chiamato o che hanno dei seri problemi o semplicemente dei dubbi dei quesiti che verranno richiamati nei prossimi giorni se vi fate carico pazientemente di sentire i nostri telespettatori noi possiamo concludere qui affidando al professore ma anche a voi se volete una parola di speranza abbiamo detto che era una puntata impegnativa sono argomenti molto pesanti ci sono delle malattie che veramente fanno ancora piangere e soffrire però diciamo che avete qualche strumento in più oggi qualche speranza in più concreta ma sicuramente credo che noi possiamo concludere dicendo che le malattie ematologiche si possono curare oggi molto meglio rispetto a qualche anno fa quindi i progressi scientifici che si sono accompagnati al trattamento delle malattie ematologiche sono stati veramente sensibili noi possiamo dire che rispetto anche ai nostri cugini oncologi abbiamo ottenuto dei risultati formidabili noi in alcune malattie non abbiamo detto in maniera chiara ma ci sono delle malattie come la leucemia menoide cronica che siamo in grado di curare il 98% dei casi con delle pasticche con delle compresse che fino a qualche anno fa era una malattia che portava a morte nel giro di 4 anni lo stesso nell'ambito dei linfomi abbiamo un linfoma di Hodgkin che nell'80% dei casi guariscono completamente quindi non vanno incontro a remissione vanno incontro a guarigione l'80% dei casi ci sono altre malattie tipo i linfomi non Hodgkin anche lì in molte varianti portiamo a guarigione oltre il 50% le patologie più ostiche rimangono sicuramente le leucemie acute tranne la leucemia acuta promilocitica tranne esatto tranne le leucemie acute promilocitica dove sicuramente abbiamo avuto dei grandi risultati per cui io sicuramente voglio dare un messaggio di speranza i pazienti che varcheranno quella scritta la soglia del vostro reparto della vostra unità di ematologia non devono per forza atterrirsi la malattia ematologica è spesso un dramma un dramma umano un dramma familiare un dramma che viene vissuto in maniera diversa a seconda anche della psicologia del paziente io credo che è importante pensare positivo pensare che la malattia si possa guarire combattere insieme ai familiari insieme a tutte le strutture di appoggio insieme all'AIL tutti quelli che possono aiutare e cercare di raggiungere l'obiettivo con la certezza chi sceglierà di farsi curare da voi nel centro di ematologia dell'ospedale di Cremona che incontrerà delle persone delle figure professionali molto ben preparate molto formate che dietro poi c'è questa rete che abbiamo visto di ricerca e di scambio fitto di informazioni che insomma trova una struttura veramente all'altezza e all'avanguardia del nome che si è creato anche negli anni e che adesso sicuramente dà una grande svolta e dà una grande speranza anche per il futuro per tutti vi ringrazio veramente tantissimo vi auguro buon lavoro ovviamente se ci saranno altre occasioni noi saremo felici di proporre al nostro pubblico tutti i vostri progressi i vostri traguardi raggiunti e auguriamo soprattutto ai vostri pazienti veramente di essere sereni e di conquistare quella veramente quella preziosa fiducia nel futuro e nella vita grazie ancora Medicina Amica si conclude qui grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.